12 giugno Rosa estrae dal fondo del cassetto il vecchio quadernino dalla copertina nera dove ha raccolto negli anni tante ricette della materialità lo apre lì dove c'è ancora quel raletto di mentuccia secco e un po' sbriciolato dal tempo a far da segno l'antica ricetta scritta e tramandatela da sua suocera mezza sotto accetto nella cucina odori e profumi si fondono e confondono metti ancora un po' di mentuccia è la sua luce che risuona come allora Rosa corre a spalancare il balcone il mare sembra quasi entrare in casa la tiepida brezza salmastra la volge in un tenero abbraccio